A tutti i GI, a tutti i GI, dirigersi sul ponte delle capsule da sbargo con armi e equipaggiamento pronti. Non è un'esercitazione! Ripeto, non è un'esercitazione! Muovetevi! Salite sulla capsule da sbargo! Vedremo se siete così in gamba come dicono! Ottimo! Questo è ciò per cui siamo stati creati. Non vedo l'ora di scendere laggiù. I North non capiranno cosa li ha colpiti. Ricordatevi che non si tratta di un addestramento. Guardiamoci le spalle a vicenda laggiù. Tu che ne dici, Rogue? Dobbiamo fare attenzione laggiù. Siamo stati creati per sopravvivere su New Earth. Ma ciò non vuol dire che siamo invincibili. Buona fortuna. Ci vediamo sul campo di battaglia. Grazie a tutti. Arrivano. Le informazioni che abbiamo ricevuto erano salte. Preparatevi. Grazie a tutti. È una trappola. Grazie a tutti. 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 Sono stato lento, Rogue. Troppo lento io. Non preoccuparti, avrai un'altra possibilità. Siamo fanteria genetica, non possiamo sfuggire alla guerra, nemmeno da morti. Manca un minuto, Rogue. Installami nel mio fucile prima che il mio biochip si esaurisca. Stai bene? A parte essere morto, intendi? Coraggio! Andiamo a caccia di North! E' ora di far fuori North! E' ora di far fuori North! Non. Morire con me! 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 Morire con me!